A facoltà adesso, non la volettoia, restiamo in Italia per un minuto e mezzo. Grazie. La crisi energetica ha fatto e sta facendo pagare un prezzo altissimo a tutta l'occupazione, a migliaia di lavoratori precari, ma anche stabili e interinali, che sono numerosi in questo settore. I maggiori gruppi siderurgici si orientano sempre più verso l'estremo oriente o continente americano e ci oppone un grande interrogativo sulla direzione di marcia del nostro modello di sviluppo. Io penso che l'Europa debba recuperare l'idea che un sistema manifatturiero come il nostro ha bisogno di solide produzioni di base in grado di fornire il mercato interno europeo. Dobbiamo perciò difendere questo settore, il ruolo di una siderurgia stabile, l'appoggeremo, signor Commissario, se vogliamo fermare il declino industriale. E io credo che dobbiamo uscire un po' da un dualismo. Questa sera qui non è cheggiato, ma che spesso si sente nelle discussioni su questo settore un dualismo tra i sostenitori dell'ambiente e quello dei lavoratori, che è sbagliato perché non ci fa vedere una prospettiva di futuro. Un'industria che veda la siderurgia come parte integrante ha bisogno di sistemi produttivi avanzati, di concrete e equilibrate soluzioni che salvaguardino gli interessi diversi, le diverse esigenze. Occorre perciò una forte progettualità, anche europea, che punti alla sostenibilità, su cui non dobbiamo tornare indietro, a mio avviso, come un velo valore aggiunto, col quale vogliamo competere nel mondo, sostenendo gli investimenti, come è stato detto da più parti, nuove tecnologie, nuovi processi, la riqualificazione degli impianti, per un'economia europea che faccia un uso efficace delle risorse, anche di quelle energetiche, anzi a partire da quelle energetiche e anche sulla ricerca di nuovi e diversi materiali. Grazie.